Ciao ragazzi e ragazze ho visto che sulla piattaforma Steam hanno messo il videogioco Gris a un super sconto super sconto perché 1,47 euro quindi veramente per questo gioco che veramente è un gioco molto particolare che mi hanno consigliato molti miei colleghi youtuber barra stream barra amici e sicuramente anche io porterò sul canale era un gioco che prima o poi avrei sempre voluto portare sul mio canale youtube e adesso che c'è questo super super sconto me lo prendo sicuramente allora questa offerta c'è scritto che termina il 15 ottobre ma che cos'è questo gioco? questo qua è un gioco senza parole narrato con le immagini graficamente molto molto curato e se proprio dobbiamo darvi quindi etichettarlo con un genere si potrebbe definire tra il platform e l'esplorativo ma è molto riduttivo definirlo così perché sono quei giochi che pur narrativo ma senza una narrazione vera e propria cioè alla fine noi ci sono questi simboli e queste allegorie visive no? e quindi bisogna entrare proprio nel nel tessuto psicologico del gioco sicuramente una cosa che tramite la musica e tramite le cose che vedremo sarà molto molto emozionante da quello che ho letto poi non voglio dirvi niente non voglio dirvi niente quindi sono quei giochi che proprio se vi piace il genere non lo so se vi è piaciuto inside limbo certo qua gli enigmi mi hanno detto sono molto più più semplici non è un rompicapo come quelli però avete capito quindi si va avanti in questa maniera ma quello che l'importante sarà quello che ci darà la visione quindi vederlo attraverso gli occhi e con il nostro cuore ricevere tutte le emozioni che ci darà questo gioco quindi un gioco che insomma può piacere chi piace questo genere di giochi e a me piacciono molto ciao 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 ciao